Io una sola A me me ne mancano 20 lingue con la comune Ho fatto due in questa partita Ok Fate un po' di pratica finch'è potete Presto ci muoveremo Postile in discesa nell'area Signore le pozioni che ti dà la patta No, non è per niente la stessa cosa Il fatto che Sì, non è la stessa cosa Non c'è la stessa legia qua C'è il volo in mezzo Dugoslavia Ok, può bastare Adesso combatteremo per davvero Battle Royale Indica un punto di lancio per il team Attenzione Dugoslavia Zona di lancio contrassegnata Con le coordina Pion Postile in discesa nell'area Occhio in alto Ehi Svegli disponibili Al lavoro Stile eliminato Ehi Sistema trofi in funzione Un'altra Dove Pinton P strips Pontale Pinto P vlog Command P sintesi Ponte Ponte Ma dove state? Non vi trovo, pannaggia, non la conosco sta pappa Ma come si fa? Si è buttato uno, si è buttato uno Dov'è? No, no Perché si va sul tetto? Oh, sta qua ragazzi Uno là sopra, uno sopra la giusta A terra Ce ne sta uno la sua Perché metto sta Claymore sulla porta Sì ma nient'altro Un colpo, dotemi, un colpo, dotemi, un colpo Bastardi Cazzi in avvicinamento Oh qua ragazzi No ma tutti a me, ah Gesù Qua dove, per le scale per salire un tetto Nelle scale per salire, sono due Dico vieni, sta qua qua No, che ho preso la mia sacca Sì sì, fermo, fermo, fermo Il tuo team è nella zona sicura Dov'è? Io sono la mitragliatrice e la regina No, io sono due le 100 io scendo giù nella privola no sto usando la mitragliatrice non lo toglie non lo toglie bersaglio taglia disponibile diamoci da fare o rp di comune dove mi sa che ce n'è uno vicino a te eh fermo ecco vieni qua dove sta qua dove sta qua ragazzi venite occhi aperti i nemici hanno già saccheggiato il posto uscela sta dietro sta dietro trovato mi sparano lì oh perla fanno finire a me fanno finire a me nooo dove 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 nooo nooo no 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 ho trovato trovato l'arma perchè giù 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 oh dai al riferimento prendiamo l'autoress nemico nemico in discesa nemico in discesa nell'area operativa a giù 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 tutto quello che è per il nuovo un po' di milioni un po' di l'autoressa la sostanza un bel stagio sostanza sopino un uomo di solanza aspetta 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 guapia alleato in sorvolo, avvio attrazione radar ostile in discesa nell'area, occhio in alto si, ho capito, io ho bisogno di munizioni, porca zozza salvi in terminale, salvi fanno il giro, fanno il giro, fanno il giro no, stanno a venire di qua tu rianimo, tu rianimo copriti se mi date i soldi, no, compro la cassa di munizioni io non ce l'ho tu rianimo comunque è macchina, è una cosa incredibile andiamo saliamo sul tetto ragazzi, saliamo sul tetto eh, questi sono pini di soldi come non detto oh qua, in safe, in safe eccolo stanno là, vivo granata stordente lanciata granata lanciata gas in arrivo, zona sicura riposizionata non c'è oh, dal tetto dove eravamo noi tirano non sta qua no, stanno qua Diego una pattuglia uscita non conosco bene la mappa stanno a lancio, stanno a lancio stanno a lancio sanno a lancio aaaah, c'è neanche un'unica mi resta con meno di 10 puoi vincere e' come perchè non possiamo rinascere Allo shop a me non viene più E' questo qui Giù 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 Ma vai Ma pure che ci restiamo Siamo senza lancia C'è gente c'è gente Mamma mia che azione Finiscili Siamo rianima Provo per uccidermi di quelli Ma si Madonna Che c'erano questi Oh Sa gente Mi devo mettere le piostre No Come è Mamma mia Due vittorie di seguito Per nuovo Per nuovo Si hanno spuntato abile Mi ha fatto i 5-6 Qualche 17 Mi mancano 19 No